Sempre più si parla della necessità di investire sull'infrastrutturazione sociale del mezzogiorno come base per lo sviluppo sostenibile del territorio. Del resto è semplice e ce ne si riesi conto. Senza coesione sociale non si può parlare di sviluppo. Se ne è già dibattuto e lo sappiamo il PIL non è un buon indicatore ad esempio per andare a vedere lo stato di benessere di una comunità eppure proprio su indicatori come il PIL o il tasso di occupazione che andiamo a misurare e a definire le politiche di sviluppo e crescita dei territori. 70 anni di piani con il Sud con ingenti investimenti non hanno portato a tutto questo miglioramento della qualità della vita delle persone che vivono nel mezzogiorno. Ebbene non è un problema di malagestione dei fondi o di incapacità di giudizio da parte dei decisori nazionali ma lo vediamo anche nelle nostre comunità. Quante volte ci sentiamo dire eh ma porta del lavoro, crea posti di lavoro e allora va bene costruire porti o industrie dal dubbio in patto ambientale, infrastrutturare turisticamente le nostre coste privatizzando di fatto le spiagge oppure sempre parliamo delle spiagge, mettere il parcheggio a pagamento perché così possiamo creare un posto di lavoro. Beh, bene, siamo disposti a fare grandi investimenti e a fare grosse rinunce anche in termini di beni comuni sull'altare dello sviluppo economico, come se sviluppo economico e sviluppo ambientale e sociale non potessero andare di pari passo, come se non ci fossero delle forme per cui economia e società potessero lavorare insieme verso un concetto più ampio di sviluppo. Proviamo quindi per una volta a partire dal sociale, come molti suggeriscono. Quello che vi vorrei raccontare oggi è un esperimento di infrastrutturazione sociale che stiamo portando avanti nel Sarrabus, una piccola area del sud-est della Sardegna, 80 km da Cagliari. Un investimento che non parte dai comuni o dalle imprese, ma parte dalle associazioni, da quello che è il cuore del terzo settore, che nel Sarrabus sono essenzialmente tante piccole associazioni, una ogni 80 abitanti, che abbiamo provato a dire mettiamoci insieme, proviamo a fare qualcosa di diverso, uniamo energie e competenze, vediamo dove possiamo arrivare per generare un impatto positivo per la comunità. che questo significa migliorare l'offerta di attività e servizi, non solo assistenziali, dare una rappresentanza organizzata dei bisogni sociali, andare a concorrere insieme agli enti pubblici e ai privati alla definizione delle politiche di investimento e di sviluppo. Questa esperienza nasce nel 2019, l'occasione è stata la partecipazione a un bando e qui vorrei fare una piccola premessa. Nelle nostre comunità, anche quelle delle aree più interne e quelle più piccole, a mancare molto spesso non sono le risorse in termini di capitale umano, capitale sociale e anche capitale economico, che lo si può andare a ricercare attraverso investitori, certamente. Molto spesso quella che manca è la volontà, la volontà di generare un cambiamento. Perché cosa succede? Che ci si trova, soprattutto chi ha potere decisionale, il presidente dell'associazione, il sindaco, ma anche il rappresentante di qualche ente territoriale un po' più grosso, ci si trova molto spesso a dire sì, le cose non vanno bene, però è bello de-responsabilizzarsi, dare la colpa a qualcun altro e non dover ammettere che forse quel cambiamento lo si deve portare avanti essi stessi, rinunciando a qualcosa. E rinunciando a qualcosa significa veramente dire la situazione così com'è non può funzionare. E per noi la situazione così com'è non può funzionare era il fatto che un territorio dove c'è un'associazione ogni 80 abitanti, la media nazionale è una ogni 50, vuol dire che è un territorio che è assai frammentato, dove nessuno è in grado di avere una base sociale abbastanza forte, in termini di risorse da sviluppare, per andare a fare un intervento incesivo, per cui mettiamoci assieme, rinunciamo a degli spazi per mettere qualcosa attorno a un'idea, un'idea comune nuova di sviluppo. E questo significa scrivere un progetto da presentare a un bando, non richiedere un contributo, scrivere un progetto, dire la situazione così com'è non funziona, io ho un'idea di cambiamento e so come portarla avanti e allora sì riesco ad attirare le risorse economiche, perché quelle sociali, quelle umane, ce le ho già in casa. E ci siamo dati un obiettivo ambizioso, un'idea di cambiamento, creare le condizioni affinché tutti, senza escludere nessuno, possano aspirare e realizzare i propri sogni, i propri desideri, in una dimensione collettiva in cui tutti possono essere protagonisti con le loro capacità e competenze di un processo di sviluppo di benessere collettivo. Sicuramente un obiettivo ambizioso, ma che vuol dire essenzialmente coinvolgere e rendere protagonisti tutti. E perché siamo partiti dalle associazioni? Perché l'associazione è il luogo naturale dove le persone entrano e fanno qualcosa perché si sentono realizzate, perché credono in quello che fanno e ritengono che mettendosi assieme, unendosi, si possa raggiungere un obiettivo comune. E quindi è la volontà, la volontà di mettersi assieme, quello che conta e quello che fa la differenza. Siamo partiti così e dovevamo trovare un modo, una modalità per coinvolgere le persone e renderle partecipi e renderle protagoniste. E l'ispirazione ci è venuta da una pratica che avevamo già in casa, non serviva andare fuori a cercarla o aspettare che arrivasse qualcuno a imporla. L'aiuto a Manu Torrada. Ti do qualcosa e in cambio tu mi dai qualcos'altro, così ti obbligo a partecipare al processo, perché non è più una questione uno verso chi, ma è una questione uno contro uno. E proviamo a fare quel passo in più, rendiamola su una dimensione comunitaria. L'associazione fa qualcosa per te, perché tu non puoi fare qualcosa per gli altri, perché tu non puoi fare qualcosa per un'altra associazione, perché siamo una rete. Magari tu puoi accettare o avere bisogno dei servizi, delle attività di una, ti possono fare piacere, però magari le tue capacità e le tue competenze possono essere spese altrove. E questa è la forza della rete, di una rete di associazioni che, seppur piccole e diversificate, offrono tanto e dall'altro possono dare ampi spazi di protagonismo. Questa però è ancora reciprocità condizionata. Faccio qualcosa affinché tu faccia qualcos'altro. È più proprio di una transizione economica che di un processo di sviluppo di comunità, sinceramente. Il passaggio ulteriore è ragionare su un presupposto di reciprocità incondizionata. Ma allora, cos'è che spinge un volontario a fare delle attività? Perché si spende al di là di quanto riceve? Perché crede fermamente in quello che fa, si sente realizzato. E lo fa come vuole lui. Vi sfido a far accettare a qualche volontario un protocollo eteroimposto dove deve fare delle cose come in una fabbrica, una sequenza meccanica di attività da rispettare pedissequamente. Non funziona così, scappano i volontari. Per cui usiamo la leva di Amano Torrada, ma proviamo a coinvolgere le persone. Non guardiamo più i beneficiari delle nostre attività, dei nostri servizi come dei beneficiari, scusate il gioco di parole, ma guardiamole come volontari, che potrebbero spendersi a favore della comunità. E facciamolo guardandoli come delle persone, come delle persone che hanno delle aspirazioni, dei desideri e dei sogni, che se noi riusciamo a intercettare, riusciamo anche a orientare verso uno sforzo di collettività, verso la creazione di un beneficio comune. E questa è un po' anche la forza delle nostre comunità. Per una volta nel paese dove tutti sanno tutto di tutti, conoscere la storia dietro a una persona significa poter andare in profondità, sapere quali sono le sue competenze, le sue capacità, sapere dove ha piacere a spendersi. E quindi proviamo a coinvolgerla in un'attività che sicuramente la farà sentire realizzata, in modo che vada oltre la semplice restituzione dell'aiuto, ma diventi qualcosa di intrinseco che dice sì ma a me quella cosa piace farla e quindi continuo a farla a prescindere da quanto sto ricevendo. Abbiamo iniziato con un intervento di rigenerazione urbana, in piccolo avevamo bisogno di costruirci uno spazio che potesse dare protagonismo sia alle associazioni ma anche alle persone, un luogo, una casa che abbiamo chiamato Domomia, dove ognuno potesse entrare e accedere sicuramente a un'ampia offerta di attività, ma anche poter dire so fare questa cosa, la voglio fare, aiutatemi a realizzarla, perché da questa cosa può nascere qualcosa per la comunità. Mettiamo assieme veramente le energie, le risorse e le competenze. Come una casa la costruiamo assieme e ci siamo messi dotazione finanziaria iniziale 15.000 euro, siamo partiti da un immobile da ristrutturare, quindi essenzialmente ci siamo pagati parte dei materiali, mancavano ancora altri materiali e mano d'opera, ma proviamo a costruirlo veramente con la reciprocità questo edificio, rendendo tutti protagonisti dell'intervento. Dicevo, come una casa dove il progetto non è di uno, il progetto è della famiglia, qui la famiglia e la comunità, è molto più complesso, è veramente molto più complesso. Vi dico da progettista, mi sono trovato a dover discutere col capo cantiere rispetto a come organizzare uno spazio e mi ha detto, beh, di queste cose non ne devi parlare con me, parlane con Daniele e qui tutti i giorni ci sta lavorando lui in quell'ambiente, non è che gli si può dire cosa deve fare precisamente, gli do un po' di supporto tecnico, cerco che sia dentro dei paletti, però parla con lui. Parlo con Daniele, Daniele è un volontario, fa otto ore di volontariato al giorno, ma partiva come beneficiario, era stato aiutato a prendere il reddito di cittadinanza, solo a gestire la pratica. E cosa ci racconta Daniele? Cosa mi raccontate in quell'occasione? Beh, sai, prendo il reddito di cittadinanza, sì sì, restituito, restituito l'aiuto che mi avete dato, ma cosa dovrei fare adesso? Stare sul divano a guardare la tv? Almeno qui mi sento utile. E poi in questa sala ci facciamo la cucina, io sono un ex cuoco e quindi diciamo che cucinare è quello che mi piace fare, la faccio a mia immagine e somiglianza così poi ci lavoro bene dentro. Ebbene, così abbiamo fatto un intervento e capito da questo siparietto che può anche sembrare simpatico, ma ci pone il problema più grande del rendere tutti i protagonisti, che non è partecipazione. La partecipazione è la reciprocità condizionata, il protagonismo è la reciprocità incondizionata, perché un conto è devo fare, restituire quello che ho ricevuto e quindi sì, mi attivo e faccio quello che devo fare. Un conto è dire vado oltre, divento io, quella cosa diventa anche un po' mia e ci metto del mio, percepisco in quella cosa del valore aggiunto, però questo significa che qualcuno deve fare un passo indietro. Non si può sperare che la gente partecipi senza avere spazio di protagonismo, senza poter incidere anche nei processi decisionali più semplici. Essere infrastruttura sociale vuol dire essere in un sistema dove ognuno fa un passo indietro, lascia uno spazio di protagonismo ad altri ed è pronto a mediare le sue posizioni con tutti, a prescindere che sia il presidente di un'associazione o il legale rappresentante di un'altra. Sì, è tutti partecipi di un processo in cui si deve essere coprotagonisti e questo è anche il solito problema di volontà. Quanti sono disposti a fare un passo indietro per cedere spazio di protagonismo? Ci siamo resi conto durante la pandemia, durante i mesi del lockdown, di quanto sia brutto non essere protagonisti, di quanto non sia piacevole dover dipendere dalle scelte di altri ed essere escluso da tutti i processi, aspettare e vedere. Quanta frustrazione dietro ogni DPCM ad aspettare che qualcuno prenda delle decisioni per risolvere dei problemi personali. E quindi cosa è successo durante il lockdown? C'è stato veramente un boom di bisogni ma anche un boom di volontari, di persone che hanno detto non ce la faccio a stare a casa e non fare niente, io mi devo rendere utile, devo sentirmi realizzato in qualche attività. E nella nostra piccola infrastruttura sociale, questo è diventato una cosa potentissima perché da un lato tutte le associazioni hanno saputo attivarsi e riorientare le proprie attività verso risposte per bisogni emergenziali. Dall'altro un sacco di persone, energie e competenze si sono rimesse in circolo, sono entrate a far parte di questo sistema e di colpo quella infrastruttura l'abbiamo terminata. Di colpo le persone hanno detto sì mi hai aiutato per quel momento di difficoltà ma io adesso voglio continuare a partecipare, guarda so fare questo, questo e questo ed altre non posso partecipare, ho dei problemi però ho queste risorse da mettere a disposizione. E allora esempio una persona anziana ha messo a disposizione un agrumeto, una persona che era un agricoltore che aveva piacere a fare attività con persone con disabilità si è messa a disposizione, un'altra associazione che fa attività per persone speciali ha detto bene mettiamoci assieme, costruiamo un agrumeto che sia un'espressione di agricoltura sociale dove ci lavoriamo assieme, c'è beneficio per i ragazzi e poi perché no, i prodotti li andiamo a vendere e proviamo ad autosostenerci. E così con l'agrumeto, così con un appartamento, così anche con un'impresa agricola. Partendo dal sociale siamo giunti a un economico, con una comunità che è molto più coesa e che ha voglia veramente di esprimere capacità e competenze in favore dell'altro senza andare a vedere cosa l'altro restituisce. E forse questa è l'espressione massima di sviluppo di comunità e forse questo è un sinonimo di sviluppo. Vorrei chiudere con un'altra cosa che è successa durante il lockdown. Dopo anni di politiche per far rientrare i giovani o trattenere i nostri giovani che scappavano dalle nostre comunità e se ne è già discusso in questa sede. No, i giovani non è che si allontanano dalle proprie comunità in cerca di un'occupazione. Sì, anche quello, ma vanno in cerca di protagonismo. Ebbene, molti con la pandemia, senza l'incentivo economico, sono tornati e hanno speso le loro energie a favore degli altri, mettendosi a disposizione. Adesso la sfida più grande anche per questa infrastruttura sociale è quella di riorganizzare queste energie, provare a trattenerle, non aspettare che passi la pandemia e che queste riscappino, ma dire possiamo sviluppare forme di economia dove le tue energie, le tue capacità e le competenze possono aiutare gli altri e sì, possono anche generarti un posto di lavoro. Perché l'altra cosa non detta è che quel progetto che abbiamo presentato a quel bando è stato approvato la settimana scorsa, quindi tutto l'impatto è derivato semplicemente dal voler perseguire un'idea e da mettersi a disposizione per farlo. Adesso da quel progetto nascono tre posti di lavoro, ma perché non dire che si può fare di più, che si può andare anche verso forme di partecipazione economica molto più forte. e forse questa è la nostra più grande sfida come piccola infrastruttura sociale che è nata dalla volontà di tutti di fare un passo indietro e lasciare che tutti fossero protagonisti.